Siamo allo sport, basket, l'Umana Reier Venezia soffre ma poi vince contro la Sidigas Avellino allenata dal tecnico veneziano Frank Vitucci. Vola l'Umana Reier di Zare Markowski. Con il tecnico Macedono in panchina la squadra lagunare si è trasformata. Quattro vittorie in cinque partite e una ritrovata consapevolezza nelle proprie potenzialità. A Mestre contro la temibile Sidigas Avellino una vittoria di 15 punti 84 a 69 che vale per la prima volta in questa stagione l'ingresso in zona playoff. Un successo dal valore doppio se si considerano le assenze di Capitano Rosselli e di Giacchetti in regia. Ed è qui che si è vista la strategia di Markowski. Rafforzare la difesa con la freschezza di due juniors come Achele e Zennaro per dare maggior lucidità agli oveni chiavi nei momenti decisivi. Penso che in difesa abbiamo ridotto il talento offensivo degli avversari notevolmente e quando in attacco sotto la dirigenza della partita di Vitali si trovano tiri puliti del nostro talento certamente sono contento anche dell'attacco. Nella umana Rayer Venezia ottime prestazioni per Linhardt, Peric e Smith il migliore fuori discussione Luca Vitali unico play ordinato in regia e prezioso in attacco il trascinatore è lui. Singolarmente ognuno di noi sta dando sempre di più perché la squadra ha fiducia quindi quando hai fiducia poi anche i giocatori prendono confidenza.